Questa è veramente una legge che abbiamo votato in maniera unanima in Consiglio regionale perché riguarda in particolare il fiume Foglia o meglio la parte terminale, cioè la barra di foce. Il Foglia è l'unico fiume delle Marche che è praticamente un porto, sono centinaia le imbarcazioni che sono ormeggiate e annualmente c'è il problema di riuscire a rimuovere la barra di foce che non consente alle persone che hanno la concessione di poter uscire in mare. Grazie a questa legge sarà possibile utilizzare le stesse risorse che i concessionari pagano per poter invece fare i lavori di manutenzione, quindi i loro soldi verranno utilizzati almeno per l'80% per consentire alla regione o al comune di poter fare i lavori di manutenzione che appunto consentiranno di uscire alle barche. È possibile, voglio ricordarlo, anche perché come regione possiamo fare convenzioni anche direttamente con i soggetti privati, cioè con coloro che hanno le barche ormeggiate.